Ora non mi fa una viaggia. Quanto intersenta neanche il motovol che è andato? Ma perché è il minimo? Questa è una del mondo del... ...è una delle barche motonautiche più famose di tutti i tempi. L'imbarcazione del Ponte Petromello, una vincitrice del Raimo di Venezia, l'imbarcazione del Ponte Petromello, una assoluta immagine. Migia! Super fantastico, via! Ibanori, Guidotti, tutti in questa fantastica categoria di KD, 900 kg, cilindrata in limite. Tira, tira, bravo. Adesso ci si è andando al Piro, una lezione di come si va il motoscafo, ragazzi. Cammina, oh! Sì, anche libertazione. 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 Sì, anche libertazione.